Allora, benvenuti in visione sul canale 96, parte da Viareggio l'edizione di questa sera di giovani Pianticelli e Viola Crescono, siamo in attesa di vedere effettuato il sorteggio, siamo curiosi di vedere dove la Fiorentina di mister Paparato andrà a contendere alle proprie avversari alla ricerca di una nuova affermazione che sfugge dall'iperlontanissimo 1992, la linea va, tra poco inizia il sorteggio, buona visione a tutti, viva forza la Fiorentina, bravi i ragazzi del centro giovani calciatori di Viareggio. Buon appetito a tutti gli amici del pianeta Viola al giovanile ogni martedì a quest'ora, puntualissimi sempre ormai da cinque anni e mezzo va in onda, giovani Pianticelli e Viola crescono che sono cresciute nel weekend, sono cresciute di lunedì e questo martedì quando noi andiamo in onda, nella mattinata abbiamo fatto ande e rianda dal comune di Viareggio, siamo stati presenti al sorteggio della 74esima edizione della Viareggio Cup e allora partiamo appunto da qui, intanto vi ricordo quello che è stato le fasi salienti, dunque un torneo di Viareggio 74esima edizione che torna nel suo fulcro storico in mezzo al Carnevale dal 12 al 26 febbraio, come sentirete dal Presidente Palagio e poi dal Sindaco di Viareggio del Ghingaro ci sono in atto dei progetti futuribili per trovare il modo di far disputare questo Viareggio dove le squadre italiane che arrivino, volendo anche le straniere, possano avere, ricevere dalle loro, da ciascuna federazione, lo stop dei propri campionati. Voglio dire in questa data 12-26 per le nove squadre italiane basterebbe un anticipo nella settimana di introduzione del Viareggio, un posticipo dopo il 26 e quei due turni andrebbero messi sotto tranquilla attenzionamento. Dunque tra poco sentirete tutto il nostro servizio fatto questa mattina nella sala consigliare del Comune di Viareggio. Intanto vi dico, prendete carta e penna, la composizione dei sei gironi. Allora nove squadre italiane, Avellino Arrientro, Carrarese, Empoli Fiorentina, Imolese, Pontedera, rappresentativa Lega, nazionali direttanti, Sassuolo, campione in carica, il Torino. Le straniere sono 15 formazioni. Dalla l'Alex Transfiguration, finalista due anni fa sconfitto ai calci di rigore dal Sassuolo. I Bayon, squadra Transfiguration, squadra nigeriana. I Bayon Limits, nigeriani, il Center National Brazzaville, squadra del Congo. Il Galatasaray, Turchia, Lombed, Ungheria. Ibrachina, Academy, Brasile, Ioveneas, Promeseas, Spagna, Melbourne, Australia, Oidu, Nigeria, Ruktav dell'Ucraina, Stella Rossa, Serbia, UIS, New York, Stati Uniti, Worcester United, Stati Uniti, Sahel Atlantic, Senegal. E allora il sorteggio effettuato questa mattina. Andiamo a vedere che cosa è successo. Allora i campioni in carica del Sassuolo. Girone 1, Sassuolo, Galatasaray, Manchester United, Sahel Atlantic, squadra senegalese. Girone 2, Fiorentina, testa di serie. Stella Rossa Belgrado, che appare la competitor più importante. Carrarese, nel derby toscano, behind the limits, nigeriani. Girone 3, Onved Budapest, testa di serie. Ibrachina, Academy, Brasile, Ponte d'Era, Alex Transfiguration, Nigeria. Girone 4, Empoli, testa di serie con il Melbourne City, Imolese, Oidu City, squadra nigeriana. Girone 5, Torino, vecchia conoscenza del Viareggio, testa di serie con il Rukt Liv, Ucraina, Luis, New York, Stati Uniti, Centro Nazionale, Brazzaville, Congo. Il Girone 6, con la rappresentativa della Lega Nazionale di Lettanti, testa di serie con lo Joannas, Promesias, squadra spagnola. L'Avellino a rientro dopo tantissimi anni. Il Mavlon, squadra nigeriana. Se andate sul pezzo che abbiamo pubblicato davvero in tempo reale durante il soggetto squadra per squadra, ci sono anche delle foto della sala dei congressi del municipio di Viareggio scattate proprio durante il sorteggio. Allora, appena pronto il contenitore, il box di Viareggio, con il presidente del Centro Giovani Calciatori, che ho avuto il piacere di rivedere Alessandro Palagi, il simpaticissimo sindaco Giorgio del Ghingaro di Viareggio. Credo che un'intervista così il signor del Ghingaro non l'abbia mai fatta in vita sua, ce l'abbiamo solo noi, visto che il sindaco era impegnato ed è scappato via subito. Siamo andati nel suo ufficio, ci siamo messi ad aspettarlo, ci ha ricevuto. E allora, tra poco vedrete l'intervista col sindaco di Viareggio più tutto il sorteggio. Qualche istante io mi acquieto, faccio spazio al prodotto che è stato riversato da Enrico Milano che era con me al comune di Viareggio, per cui la palla passa alla nostra regia del canale 96. Ci risentiamo tra circa un quarto d'ora. Lina allo studio. Buongiorno a tutti. Prima di iniziare vorrei chiedervi un minuto di raccoglimento per il nostro rombo di tuono, per Cici Riva, che ha rappresentato qualcosa di importante anche per noi del giornale di Reggio, quando ci furono i fatti di Catanna, Marcello Lippi, per tranquillizzarmi, per tranquillizzarmi. Mi mise in contatto proprio con Gigi e lo ricordo con grande affetto e anche come persona già su con l'età per le emozioni che ci ha dato come grande calciatore e soprattutto come grande uomo. Mi ricordo solo un particolare che mentre parlavo con lui durante questi momenti drammatici del calcio, vi ricordate che fu fermato il calcio dopo i fatti di Catania e ripartì attraverso il tornare di Reggio. Parlando con Gigi di Riva, allora responsabile nazionale italiana, che mi tranquillizzava, quando si arrivò all'obiettivo io lo invitai a venire a Pia Reggio a mangiare il pesce in uno dei nostri ristoranti e lui contraccambiò e mi disse, guarda, ti invito io a Cagliari perché il pesce buono l'abbiamo anche il sapere. Quindi facciamo un minuto di raccomandamento in sua memoria. Grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa cerimonia del sorteggio della 74esma a Pia Reggio Cup. Guarda la Vita Women's Cup, ci sono ancora da definire alcune cose nell'organico delle squadre, delle nostre squadre, quindi daremo notizie nei prossimi giorni. Intanto do la parola al Presidente del Centro Giovani Cacciatori, Alessandro Palacchi. Allora, intanto ancora una volta a me l'onore di portarvi i saluti da parte del Centro Giovani Cacciatori, di ringraziare voi tutti per la vostra presenza in questo giorno, che mi rappresenta per me il primo passo di una nuova creatura del Tornato di Pia Reggio. Un ringraziamento particolare va anche alle autorità presenti, istituzionali e sportive. sarò molto breve e aggiungo che è sempre molto emozionante essere presente in questo primo giorno di una nuova creatura del Tornato. Dunque siamo giunti all'edizione numero 74 del Tornato di Pia Reggio. Apro e chiudo una parentesi che senza il Covid sarebbe stata l'edizione numero 76. A me piace ripetermi, ricordo sempre che il Tornato di Pia Reggio è nato prima della prima Repubblica, prima del Festival di Sarese, prima di tutti gli altri tornei che poi purtroppo, mi dispiace, sono nati e poi sono finiti. È un certo periodo che lavoriamo molto assiduamente sul torneo come organizzazione per cercare di dargli quello che merita, per quello che rappresenta, con una storia lunga 76 anni, io dico 76 anni, con aneddoti e storie personali e generali collegate anche proprio alla storia politica, economica, mondiale che non hanno uguali. Per questa edizione che io considero un'edizione ponte verso il futuro, ci siamo mossi subito dopo la fine dello scorso torneo, primi giorni di aprile, insieme al Sindaco, siamo andati a Roma, abbiamo fatto delle richieste, secondo me normali, che consistono nel riportare il torneo nel periodo storico, cioè nel periodo di carnevale, Coppa Carnevale, nel chiedere se possibile, di fermare il campionato di riferimento, cioè l'anno del 18, come di resto era un tempo e lo è stato per tantissimi anni, per decenni, riservare 15 giorni di stop per far svolgere il campionato di viareggio come lo meritava e come lo meritava, con eventualità. La terza richiesta era quella di ristabilire il rapporto armonioso tra l'organizzazione del torneo e la federazione, il rapporto che c'è sempre stato. Devo dire che siamo venuti via da Roma molto convinti di quelle che potevano essere le risposte, mentre invece abbiamo imparato ancora qualcosa di nuovo, nonostante i 76 anni di organizzazione, perché il torneo è sempre stato considerato un grande lavoratore. Fate pensare che 70 anni fa, quando la RAI trasmetteva la prima partita di calcio in diretta in diretta, lo faceva trasmettendo il secondo tempo della finalissima del torneo di viareggio, la nero-osificenza Juventus. Dentro quella nero-osificenza lì c'erano personaggi che poi hanno fatto la storia del calcio italiano e non solo. Dunque ci sono particolari come la prima volta della Cina che esce dalle grandi murali, arriva al torneo, tutte cose dette di dentro, ma che vanno ricordate perché fanno parte di una storia ineguardabile, quella del nostro torneo. Allora, noi dobbiamo dire che siamo riusciti a ottenere qualcosa, ma non tutto quello che speravamo di ottenere. Abbiamo riportato il torneo nel periodo tradizionale, cosa eccezionale per noi che siamo dei sentimentali applicati al nostro carnevale, alla nostra terra, ma oggi abbiamo potuto verificare, imparando qualcosa, che nel periodo di febbraio il torneo, almeno che ci siano delle decisioni di un certo tipo da chi governa il calcio, si fa, ma si fa con grosse difficoltà, perché le squadre della categoria partecipanti al torneo sono impegnatissime. Si può dire che da un certo viaggio in un certo ritardo, per cui ci siamo trovati a ritardare il sotteggio e a dire quali sono le squadre, le squadre con un certo ritardo, perché aspettavamo la risposta da alcune squadre italiane che volevano arrivare al torneo nel periodo, ma non sono riuscite a superare tutti i problemi logistici che riguardavano il loro campionato, oppure le convocazioni nazionali, oppure il movimento di giocatori dall'Under 18 alla primavera o addirittura all'Under 23. Perché oggi il calcio giovanile, l'abbiamo detto tante volte, però chi lo vive lo sa, è cambiato in maniera drastica. La federazione ci ha comunque concesso per le squadre partecipanti al torneo che fanno il campionato nel 2018, di rinviare le partite in ufficio, non più sentendo l'altra squadra se è d'accordo, quindi qualcosa ci ha concesso. Però recuperare tre partite in una situazione dove il campionato va avanti e dopo deve recuperare intrasettimanalmente è una cosa molto difficile, quindi io capisco e comprendo anche le esigenze delle squadre, ci mancherebbe. Abbiamo ottenuto ovviamente che si rinzardi quel rapporto armonioso tra il centro giovani calciatori e la federazione italiana gioco calcio. L'otteso problema, forse ancora più pesante, ce lo siamo ritrovati con il torneo femminile, un torneo che abbiamo avuto idea di organizzare per dare un contributo al calcio femminile nella sua evoluzione e nella sua crescita. Ovviamente queste cose qua saranno motivo di attenzione e di studio da parte degli organizzatori. Non vi nego che stiamo lavorando su tre progetti da almeno due anni, uno è molto ambizioso, molto ambizioso. E se riusciremo a chiudere questo progetto sarà tutto più semplice per le squadre arrivare a tornare a Liviareggio, che decideremo? Per noi organizzatori. Quindi sul femminile, come ha già detto il dottor Barozzi, ci siamo presi tre giorni in più e dopo, con un comunicato stampa, divulgheremo quello che sarà il format inerente al torneo femminile. In questo momento non è il tempo delle osservazioni, delle riflessioni, delle polemiche, ci mancherebbe altro. Però noi non ci fermiamo. Noi andremo avanti fino a che non avremo trovato una soluzione lunga nel tempo per un torneo che è stato il trampolino di lancio per migliaia e migliaia di addetti ai lavori nel mondo del calcio. Prima per quanto riguarda il calcio giovanile, poi per quanto riguarda il calcio in generale. Grazie per aver avuto la pazienza di rispondere. Bene, ora la parola alle istituzioni che ci affianca da sempre, al sindaco del comune di Vieriggio, il dottor Giorgio De Gingaro. Buongiorno a tutti, benvenuti. Inizio con i ringraziamenti invece di terminare. Grazie al centro Giovani Calciatori per questa ennesima iniziativa che ha portato a termine di fatto tra mille difficoltà. Lo faccio in maniera non formale, ma in maniera istituzionale e personale, perché ho vissuto personalmente in questi lunghi mesi di sforzi che queste persone hanno fatto per mantenere viva una tradizione straordinaria come quella del torneo di Vieriggio, che è una tradizione non solo sportiva, non solo dello sport giovanile, non solo del calcio, ma è una tradizione che appartiene alla storia della città di Vieriggio. E questo è un pezzo della città di Vieriggio. Allora io prima dicevo al 76, 74, io credo che in questa sala non ci sia nessuno che abbia più anni del torneo di Vieriggio. E questo la dice l'Unda, da dove si arriva? Ecco, allora non a caso la città in questi anni ha supportato e continuerà a farlo il torneo di Vieriggio. Lo ha fatto naturalmente facendo quello che è naturale, cioè cercando di dare la possibilità di poterlo giocare a Vieriggio. Ci sono state delle difficoltà, lo sapete tutti, quest'anno finalmente sia l'apertura sia la chiusura avverrà a Vieriggio, allo Stadio Ferracci, a Torre del Lago, in attesa naturalmente che venga completato i lavori allo Stadio, allo Stadio di Vieriggio. Intanto abbiamo investito oltre un milione sullo Stadio Ferracci, proprio per renderlo, diciamo così, dignitoso rispetto all'accoglienza del torneo di Vieriggio. E i lavori allo Stadio vanno avanti e li dovremo completare, noi ci auguriamo, proprio per l'inizio del prossimo torneo, per il prossimo carnevale. E' uno sforzo importante, la città è tutta, diciamo così, concentrata su una serie di lavori pubblici, quello dello Stadio è uno veramente dei lavori al quale noi teniamo di vincere. Ma quello che diceva il Presidente è giusto. Noi siamo stati in FIGICI, subito dopo, era aprile dell'anno scorso. Poi ci siamo tornati, qualche mese fa, a chiedere, noi abbiamo chiesto solo una cosa, c'è rispetto. C'è un torneo che ha una storia, una tradizione. Credo che sia amato da tutti e rispettato da tutti. Ecco, la città di Vieriggio chiede un passo in avanti e cioè chiede che in questo torneo si possa giocare in serenità e che quindi le squadre di calcio non abbiano il doppio e il triplo impegno, ma nel periodo, diciamo, in cui si svolge il torneo di calcio, che di fatto sono 20 giorni, le squadre di calcio abbiano la possibilità di venire liberamente senza l'impegno del campionato. E quindi abbiamo chiesto una sospensione, io so che ci saranno naturalmente tempi tecnici di maturazione di questa nostra proposta, però so anche che la FIGICI ci ha risposto in maniera, diciamo, positiva e ci auguriamo con l'anno prossimo di riuscire a raggiungere questo obiettivo. Sarebbe un obiettivo fondamentale perché ripermetterebbe al torneo di Vieriggio di essere vetrina senza, come dire, sovrapposizioni del calcio giovanile che io definisco calcio giovanile internazionale di qualità. Ecco, il mio è un appello che faccio alla FIGICI, lo ho fatto personalmente a Gravina e quando l'ho incontrato, ora, a parlo al nome della città, credo che con l'anno prossimo si possa finalmente raggiungere questo obiettivo. Noi tutti ce la vogliamo, lavoriamo per questo. Nel frattempo accogliamo con grande affetto le squadre che arriveranno a tutto il mondo, mi sembra 15 che vengono da paesi esteri e una parte naturalmente italiana, mi sembra 9, e quindi sono tante squadre che ci verranno a visitare in questi 20 giorni durante il carnevale. Questo è un obiettivo importante che abbiamo ottenuto, cioè di poter giocare durante le manifestazioni, i corsi del carnevale. È una cosa bella perché la città è in festa e il torneo di Via Reggio è giusto, secondo me, che faccia festa insieme alla città. Con l'augurio che sia un torneo di Via Reggio straordinario, strepitoso, dove tutti quanti ci si possa divertire e soprattutto con l'augurio che da questo torneo nascano grandi campioni come sono nati in passato, io ringrazio di nuovo i centri giovani calciatori e tutti voi che siete qui e faccio l'in bocca al lupo a tutte le squadre. Grazie signor Sindaco. E ora la parola a Giorgio Merlini, Presidente della Commissione Tecnica di Torneo e Consigliere regionale della FIGC. Buongiorno a tutti, molto i saluti istituzionali e i miei personali. Parto da quello che ha detto il Sindaco che ha messo subito in gioco la FIGC. Io penso che la FIGC col torneo di Via Reggio sia un onore che il torneo di Via Reggio venga fatto in gioco, però bisogna che entro il mese di giugno i centri giovani calciatori sappiano qual è la data che comincia il torneo e quando finisce e andare a Roma nella sede ufficiale dicendo che il torneo si fa in questo periodo in modo che la domenica di questo torneo venga messa come riposo, però va fatto prima che la FIGC faccia i calendari, perché una volta fatti i calendari non si può tornare indietro. Quindi questo è un invito che faccio a certi giovani, al limite posso venire anch'io nelle sede di Roma e discutere questo tipo di rapporti. Per le altre cose ringrazio il Sindaco perché ho visto che almeno i lavori vanno avanti, lì aveva promesso che il campo sarebbe stato fatto, un impegno che si è preso e sta portando avanti. Quindi questo è un flagio che va fatto al signor Sindaco. Il centro giovani, lo ringrazio perché tutti gli anni con grandi sacrifici porta avanti questo torneo e non è facile perché a livello giovanile non si gioca più la domenica, ci sono tornei internazionali, c'è la Lute League, c'è le Coppe Esale, cioè il calcio bisogna capire che è cambiato, si gioca dal lunedì al lunedì dopo senza sosta e quindi anche questo è un problema. Però il centro giovani, ho visto che anche quest'anno ha portato 24 squadre, quindi un applauso al centro giovani facciatori. Con questo finisco, ringrazio tutti i partecipanti e auguro a tutti un buon torneo. Grazie, grazie Giorgio. Quindi passiamo ora al sorteggio. Le squadre partecipanti di quest'anno sono 24, 15 stranieri, questo è un record, e 9 italiane, italiane appunto un po' decimate per i problemi che abbiamo. Sono state stabilite quindi le teste di serie perché le 24 squadre sono suddivise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. Il procedimento poi per il passaggio del turno prevederà la promozione delle prime due classificate di ogni girone e la promozione anche delle due migliori terze di ogni gruppo perché i 6 gironi sono suddivisi in due gruppi, cioè girone 1, 2 e 3 formano un gruppo, gruppo A, e i gironi 4, 5 e 6 formano l'altro gruppo, il gruppo B, quindi da questi gruppi saranno poi ricavate le squadre che si qualificheranno agli ottavi di finale. Le teste di serie che vedete già inserite sul tabellone sono il Sassuolo, che è la squadra detettrice del torneo, la Fiorentina e la Oved, nel girone 1, 2 e 3, quindi nel gruppo A, poi nel girone 4 Empori, nel girone 5 Torino, finalista lo scorso anno, e nel girone 6 la rappresentativa di serie D, quindi queste sono il secondo gruppo, il gruppo B. Ora andiamo ad estrarre, a sorteggiare le altre squadre che sono suddivise in tre fasce come al solito. Nella seconda fascia abbiamo inserito le squadre, le quattro squadre dei campionati europei, abbiamo la squadra spagnola Jovenes Promesas, già l'ha venuta altre volte al torneo, un ritorno anche questo molto gradito, quello degli ucraini del Ruch Lviv, poi dalla Serbia la Stella Rossa di Belgrado e dalla Turchia il Galatasaray di Istanbul. Poi c'è la squadra che rappresenta il Brasile, l'acadio di Ibracina e in rappresentanza dell'Australia è il Belbo City, quindi anche quest'anno poi vedremo se sarà la quarta fascia delle squadre africane, sono ben quattro i continenti, manca l'Asia ma sono quattro i continenti rappresentati nel nostro torneo. Quindi ora andiamo a estrarre queste squadre della seconda fascia e man mano che escono saranno inserite nei gironi dall'1 al 6. Galatasaray. Stella Rossa di Belgrado. Grazie. Ibraquina, Brasile. Melbourne, Australia. Ibraquina, Ucraina. Gioannis, promessi, anno. Ecco, ora la terza fascia è formata dalle due squadre che provengono dagli Stati Uniti, queste sono squadre già ormai abituate del nostro torneo, Westchester United e United di New York e poi ci sono le altre squadre italiane che sono il Molese, la Carrarese, il Potedera e l'Avellino. Westchester United. Cardarese. Ponte Dera. Il Molese. Grazie. 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 Avellino. Avellino. Siamo quindi alla quarta e ultima fascia. Qui sono state inserite le sei squadre africane che parteciperanno al torneo, sono quattro squadre nigeriane, Mavlon, Ojonu City, Beyond Limits e Alex Transfiguration che due anni fa arrivò alla finale. una squadra è una squadra del Congo, il centro nazionale di formazione di football della Repubblica del Congo, una squadra del Senegal, il Sahel Atlantique. del girone 1, Mavlon, il Sahel Atlantique del Senegal. Nel girone 2, Beyond Limits, Nigeria. Nel girone 3, Alex Transfiguration, Nigeria. Nel girone 4, Ojonu City, sempre in Nigeria. Nel girone 5, il Sante Nazionale di Formazione di Football di Brazzaville, Congo. Nel girone 6, il Mavlon Football Club, sempre in Nigeria. Quindi vi riepido vicinoni, sono qui formati grazie all'aiuto anche di Giada e Clara, la nostra atleta della sezione del patinaggio artistico. Figlia d'arte. Figlia d'arte anche Giada, sì, perché suo padre è stato un grande calciatore. Allora, con il girone 1 abbiamo il Sassuolo, il Galatasaray, il Westchester United e il Sahel Atlantique. Nel girone 2, Fiorettina, Stella Rossa di Belgrado, Carrarese e Beyond Limits. Nel girone 3, Hobbit di Budapest, Ibracina del Brasile, Potedera e Alex Transfiguration della Nigeria. Nel girone 4, quindi questo è il gruppo, abbiamo appena detto il gruppo A, nel girone 4 inizia il gruppo B. Nel girone 5, Empoli, Melbourne City, che sarà accompagnato dal campione Alino Diamanti, Imolese, Ojobu City della Nigeria. Nel girone 5, Torino, Ruchelviv, l'Ucraina, United and York Soccer Start di New York e la Santa Nazionale de Formation de Football di Brazzaville, Congo. Nel girone 6, la rappresentativa di Serie D, la squadra spagnola di Covenes Promesas di Palenque, Avellino e Maulo Football Club della Nigeria. Quindi, naturalmente i calendari saranno diffusi nei prossimi giorni. Questo è l'esito del sorteggio della 74esima. Bambiari Giocato. Sicuramente siamo qui a disposizione per chi avesse delle domande, delle dubbi, delle notizie in più. Vi ringraziamo per essere stati presenti a questo primo passo della 74esima Ieri Giocato e ci rivedremo presto sui campi di gioca. Grazie. Presidente Palaccio, è un piacere rivederla, la sua creatura, il tabellone appena composto per la 74esima edizione, 24 squadre, torneo che torna nel suo alveo storico del periodo del viareggio. Diverse iniziative, diverse richieste, come è nato, come sta nascendo questo 74esimo, questa 74esima che avevi giocato? Direi intanto che è un torneo che sicuramente passerà la storia perché per la prima volta abbiamo un numero superiore di squadre straniere partecipanti rispetto alle squadre italiane. 15 contro 9. 15 contro 9. Un torneo che ci ha impegnato a fondo perché ormai da qualche tempo stiamo studiando una formula che consenta al torneo di ritornare in un periodo di calendario dove si disputa soltanto il torneo di viareggio come era un tempo, fino a pochi anni fa. Con la ovvia sospensione dei vari campionati per le squadre che partono. Sì, questo se è possibile, altrimenti dovremmo trovare un'altra data per poterlo disputare. Perché noi siamo pienamente comprensivi nei confronti delle squadre, nei confronti di chi organizza i campionati per le cresciute attività che ormai in questi anni ci sono anche nel settore giovanile d'età. Ok, Sassuolo presente il detentore del viareggio, diverse squadre africane, una su tutte l'Alex Transfiguration due anni fa a finale. Certo. Poi la Fiorentina alla perenne rincorsa di tornare a cercare di vincere un torneo che sfugge da lì per lontanissimo 1992 dove in un'altra sede c'era una magnifica fotografia dall'alto di uno stadio dei Pini meravigliosamente tutto esaurito. Il sindaco ha detto che il prossimo anno probabilmente si torna allo stadio dei Pini. Infatti noi consideriamo questo torneo un torneo ponte, tra le altre cose ponte perché speriamo prossimamente di ritrovare il nostro stadio, Torquato Bresciani, che grazie al torneo ha fatto conoscere il viareggio in tutto il mondo. Assolutamente. Quindi che dire, la Fiorentina si può dire che è partner del torneo di viareggio. Se non c'è la Fiorentina il viareggio non parte. Bravo, e insieme alla Fiorentina riserviamo delle sorprese anche in questo torneo che verranno poi diramate nei prossimi giorni. Si parte e si finisce al Ferracci per cui il sindaco ha detto che abbiamo speso dall'anno scorso a quest'anno un milione per rendere la sede giusta, la locazione giusta e rispettosa per tutto e per tutti della prima e dell'ultima partita destinata alle dirette Rai. Sì, naturalmente speriamo di giocare al Ferracci altre due partite. L'amministrazione ha fatto questo perché vuole che il torneo si giochi nella sua città natale. Noi la ringraziamo, ovviamente ringraziamo anche il sindaco che in questo anno soprattutto ci ha accompagnato anche nelle notte sottite a Roma, per esempio dal ministro dello sport oppure in federazione. Quindi siamo anche contenti di avere questo supporto che rappresenta un interesse in una manifestazione storica della città di viareggio conosciuta in tutto il mondo. Se sarà possibile noi di Firenze per la super sport saremo presenti, se ci verrà data la liberalizzazione di riprendere le partite non in possesso dei diritti Rai, solamente un numero, il sottoscritto che le sta parlando. Questa sarà la 36esima edizione del viareggio che ho visto e vedrò con gli occhietti miei. Io mi complimento con lei, gli dico che il 2024 è un anno straordinario, un anno straordinario perché per esempio la Rai quest'anno compie 70 anni e io sono 55 anni che mi regalo al Centro Giovani Cacciatori, da 8 e 30 organizzo personalmente il torneo. Allora, ci stringiamo la mano, buon lavoro, viva il torneo di viareggio alla 74esima edizione dal 12 al 24 di febbraio. Grazie mille, buon lavoro. Salve, salve. Comune di viareggio, salone in giallo del sindaco, il dottor Giorgio Del Ghingaro, a cui faccio i ringraziamenti per tutto quello che rota in giro all'organizzazione della futura, tra poco, 74esimo viareggio capo. Come sta? Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene. Allora, così, fuori microfono avevo detto al sindaco che d'ora in poi lui è sotto, ho usato un brutto termine al microfono spento, però sotto la lente di ingrandimento va meglio in diretta, perché parte il terzo anno dedicato, due anni fa disse, in tre anni vi mettiamo a posto dello stadio del Pini, ergo Tommaso Preciani, siamo a dei lavori in corso, mi diceva, entro la fine dell'anno, probabilmente ce la facciamo. Spero di sì, se non ci saranno inconvenienti dovremmo giocare il prossimo torneo, e quindi sarà la 75esima edizione, allo stadio del Pini magari, e magari inaugurarlo proprio in quell'occasione. Mi auguro di potercela fare, l'azienda ci dice che, come dire, dovrebbe rispettare i tempi, però, ecco, io sono abituato a essere prudente quando si parla di lavori pubblici, quindi io dico speriamo. Allora, lei però mi aveva detto a mo' di battuta, io sono d'accordo con lei, che ci metterà a meno lei, dei futuri lavori del Francki di Firenze, che non si sa quando partono, quando partiranno, né tantomeno quando finiranno a Firenze, impazza tutto e tutto rotea sulla prossima elezione del sindaco. Questo è un problema vostro, se mi posso permettere, io c'ho i miei e ce ne ho tanti, e quindi questo qui in Ardella si occuperà, fino a che naturalmente sarà lui il sindaco, del nuovo Stato di Firenze, però penso di fare prima io. Assolutamente, gliene darò atto assolutamente, ognuno ha le proprie piccole croci, lei è Juventino, io Fiorentino, ho visto la sala di Firenze, io sono orgogliosamente Juventino, già il fatto di stare accanto a lei con la sciaposi mi crea tubamento, però, come dire, va bene, l'accetto che si deve fare, va bene, allora, quest'anno siete fortissimi, se non ci fanno la campagna acquisti va a finire maluccio, però va bene, quest'anno siete forti. Ok, allora, dicevo, 24 squadre, 9 italiane, 15 straniere che è il record, tante le squadre africane che hanno deciso di venire a fare bella mostra di loro qui a Viareggio, che è un bel palcoscenico, tra le italiane, voglio dire, la mia Fiorentina è alla rincorsa di questa decima stella, non lo vinciamo, dal 1992, da qualche parte c'è una strepitosa foto dello Stadio dei Pini completamente esaurito, Fiorentina-Roma 3 a 2 ero presente, perché questa per me sarà la 36esima edizione di Viareggio che vedo con gli occhietti miei, per cui sono un graziano di tutti, è una bella cosa, però ho detto alla platea prima, che secondo me in platea, che era pieno, non c'era nessuno che avesse un'età maggiore del torneo di Viareggio e non c'era nessuno che l'ha alzato la mano, quindi vuol dire che il torneo di Viareggio non solo ha una tradizione sportiva di grande rilevanza, ma è un pezzo della storia della città di Viareggio ed è per questo che ha bisogno secondo me di rispetto, assolutamente, a caso ho chiesto ufficialmente alla FIGC, cosa che abbiamo fatto privatamente nei mesi scorsi, di sospendere i campionati durante il torneo di Viareggio, perché altrimenti è chiaro che si condizionano entrambi e non si fa bene nessuna delle due cose, il torneo di Viareggio ha bisogno di avere 20 giorni a disposizione per giocarsi, per poter dar lustro al calcio giovanile internazionale e soprattutto ha bisogno di giocarsi, guarda caso, proprio durante il carnivale di Viareggio, cosa che finalmente ce l'abbiamo fatto. Meno male, per tutte queste cose insieme fanno sì, secondo me, che si ridà dignità al calcio giovanile da una parte, al calcio pulito, a quello che è fuori dagli interessi economici. Io sono rimasto colpito e stile fatto da questa finale, semifinale e poi finale in Arabia per la Supercoppa italiana, come dire, proviamo a ridare dignità anche a noi stessi. Se ci va in finale, chi deve andare in finale, il resto di contorno non vale. Non solo, ma poi perché farla in Arabia? Cioè, facciamola in Italia. Ballucchiano dei soldini, tra l'altro ce ne saranno altre quattro, perché questa è la prima più altre quattro che seguono. Guardi, mi torna, cioè, io capisco, ma proprio per uscire da questo meccanismo utilizziamo il calcio giovanile, utilizziamo il torneo di Viareggio, usciamo dal meccanismo solo economico, proviamoci. Torniamo alla sportività e alla qualità della prestazione agonistica, altrimenti non si va da nessuna parte. Secondo me, questo è quello che rappresenta il torneo di Viareggio, ecco perché dico che la FIDIC dovrebbe, secondo me, avere attenzione per questo tipo di calcio. Io dico la mia, probabilmente se si rimaneva nell'albero del campionato primavera c'era più a pille, più decisionalità, siamo nell'anno del 18, dico, su questa edizione basta un anticipo prima di venire qui, un posticipo di quella che seguo e dopo hai già risolto tutti i problemi. Sì, vabbè, però, allora, io dico, al torneo di Viareggio devono venire le più grandi squadre della squadra, la squadra è un po' da qualche anno andare in campo, però vorrei precisare che manca dal lato in cui ha vinto, e io ho esultato con loro a bordo campo dopo la vittoria, fortunatamente, vorrei però precisare che vi abbiamo concesso Bernardeschi, è venuto a fare il giuramento, e poi dove è andato? È andato alla Juventus, bravo, io gli ho dato la sciarpa in diretta perché io lo immaginavo e lui ha legato, però poi è venuto alla Juventus. Nacque qualche polemichetta su quella, Geiger. Poi è venuto chi? Chiesa. E dove è andato? Alla Juventus. Contento lui, scontento di lui. Io gli ho detto, guarda non ti do la sciarpa, ma so già che viene alla Juve, e lui disse no, 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 e poi è venuto alla Juve. Buonaventura che è venuto l'altro anno, credo uno dei, secondo me, giocatori più bravi che ci sono ora nel campionato italiano, peraltro una persona squisita, gli ho detto guarda non ti vogliamo alla Juve, perché se a fine carriera si scherzava naturalmente. sarebbe stato indecoroso un, due, tre, due, tre, tre, insomma, voglio dire. Bravo, altrimenti arriviamo qui, la prendiamo e la rimuoviamo dalla ricca. Quello che voglio dire è che, al di là delle battute e degli scherzi, tre giocatori importanti che vengono da 60 km da qua, da una squadra di Firenze che sono venuti a onorare il torneo di Viareggio e a giurare, per me è una cosa assolutamente straordinaria. E quindi questo gemellaggio, diciamo così, tra i colori violi e i colori bianconeri del Viareggio. Gemellaggio tra piccolette sono abitina, no? Sì, certo. Perché mi danno di io e il Vierino, mi danno di felice, perché vado a commentare le partite di Coppa, Coppa e Europa e sembra che io faccia, ho detto, io faccio il giornalista italiano, sono toscano e fiorentino, ma sono perfetto e si commenta tutto. Allora, io guardi, io arrivo, fino a qui ci arrivo, come vede rilascio un'intervista con la sciarpa viola volentieri e saluto naturalmente tutti i tifosi viola, se avessi avuto una sciarpa nero-blu non so se le avrei rilasciato in intervista. Va bene, mettiamola così. Va bene, allora me la metto in macchina e la porto tutti in tutte le partite dei tempi. Va bene, va bene. Sindaco è stata una strepitosa intervista, non me l'aspettavo, grazie del tempo che ci ha dedicato, buon lavoro, buona gestione del Comune di Vareggio, dica alla truppe dei lavori che sono sotto l'elentro di grandimento. Lei ci vada ogni tanto, però quando vengo qui e mi fermo a mangiare vada a controllare l'imperato di vicino, non è per fare pubblicità perché non mi permetterei, ma c'è proprio il cosiddetto balino dello stadio, fanno un frittino niente male, è così fermi. Va bene? Salute. Buon lavoro a tante cose. Grazie, grazie mille, ospedalità del Comune di Vareggio, Sindaco degli Dingaro, Stefano Ballerini, Enrico Milano. La linea torna definitivamente agli studi del canale 96 di Tele Firenze Viola Superstore. Passo e chiude. Dal Salone Consigliare del Comune di Vareggio ecco il sorteggio effettuato, 74esima edizione di Vareggio K, ancora riservate alle squadre Under 18. I gironi che ci interessano sono due. Il girone 2, Fiorentina, testa di serie, Stella Rossa di Belgrado, Serbia, Cararese, Bayon Limits, squadra nigeriana. Il girone 4, Empoli, testa di serie, Melbourne City, Australia, Imolese, Odio City, squadra anch'essa nigeriana. Under 18, noi attendiamo istruzioni per poterci dare disponibile eventualmente a venire a riprendere e dare in diretta le partite della Fiorentina, non comprese nel Palinsesto Rai, attendiamo comunicazioni, noi siamo disponibili. Fatto finale, il sottoscritto che vi parla da Vareggio vedrà il torneo di Vareggio, la Vareggio Cup per la 36esima volta consecutiva nella propria storia giornalistica. Passo e chiudo, ci rivediamo, ci state rivedendo sul canale 96 questa seda, situazione da Vareggio inserita in giovani pianticelle. Viola crescono come ogni martedì. Grazie e linea alla redazione. E allora, torniamo collegati, spero che il servizio sia stato di vostro gradimento. Mi sono divertito tantissimo durante l'intervista col sindaco, il caro amico del Ghingaro che ho rivisto dopo un anno, ci incontramo giusto proprio l'anno scorso. E allora, andiamo a vedere invece cosa è successo ieri. Eravamo presenti anche lì, da quando sono tornato, tra Paolo Caselli e sottoscritto, servizi in quantità industriale, interviste e quant'altro. Allora, campionato Under 18, si è giocato lunedì pomeriggio al Davide Astori del Viola Parc, il posticipo Fiorentina Sampdoria. Le foto che ho scattato dalla tribuna ringrazio tutti. Dico, avevo chiesto, chiedendo l'accredito che mi è stato recapitato e ringrazio di poter parlare con Papalato alla fine della partita. La Fiorentina non è pronta per questo tipo di servizi. Gli ho chiesto, ragazzi, ma la sede vostra dell'ufficio stampa al Viola Parc, dove è? Vi avevo avvertito, unico giornalista presente, con la trasmissione che state vedendo di martedì. Mi fate fare due chiacchiere con Papalato? Niente da fare. Senza la presenza e di controllo di qualcuno dell'ufficio stampa non si possono fare simili richiesti. Mi dico, l'anno scorso, durante il torneo di Viareggio, fumo lasciati liberi insieme ai colleghi, Andrea Giannattaggio, sempre con noi, di fare le domande nel post-partita di ogni partita con Papalato. Ieri si giocava al Viola Parc, ero l'unico giornalista accreditato. Con una trasmissione, quella che sta andando in onda adesso, mi negate la possibilità di fare il punto della situazione con mister Papalato. Me ne sono già fatto. Una ragione. Fiorentina che batte la Sampdoria 2-0, un gol per tempo. Diciannovesimo del primo tempo Delia, nel secondo tempo il tiro dai 25 metri di Keita, Ferrara nell'angolino di destra del portiere Cervone 2-0. Fiorentina che ha schierato. Leonardelli, Ciraudo, Trapani, Keita, Lucchesi, Cuomo, Bertolini, Deli, Generali, Puzzoli, Conti. In panca c'erano il secondo, Lopez Salgado, Palazzesi, Gozzini, Giusti, Martini, D'Amato, Renda, Colzi e Vascotto agli ordini di Papalato. Durante il testuale scritto che ho proposto troverete anche le sostituzioni. Non le ho elencate tutte, è il mio unico punto debole. Le sostituzioni al momento della sostituzione. Sampdoria, Chiascherato, Cervone, Balduzzi, Trevisan, Rossello, Sinatra, Melani, Camiciotoli, Galluccio, Portaccio, Giolfo, Balzano. In panca c'erano Rodolfo, Freccero, Virtuosi, Malai, Traversa, Panariello, Islam, Sava, Melissa, allenatore Franga, arbitrato Balducci di Empoli. Dunque un gol per tempo di Deli nel primo tempo al minuto 19, anzi no, 19, 25. Puzzoli da destra trova libero Deli che batte Cervone per l'1-0. La Fiorentina aveva avuto un'occasione al minuto 16, doppia, grande occasione viola di Bertolini che tira da solo addosso a Cervone che ribatte anche il tentativo di tap-in dell'attaccante viola. Poi, ripeto, nella ripresa la Sampdoria ha premuto, la Fiorentina la cito prevalentemente di contropiede. Al 31 destro chirurgico da fuori Arita di Keita che batte nell'angolino destro di un Cervone preso in contropiede. 2-0, Fiorentina che porta a casa i tre punti. Allora, andiamo a vedere quelli che sono i risultati del turno con la classifica del campionato Under 18. Ripeto, due erano stati i posticipi del lunedì. Pertanto abbiamo dovuto solamente aspettare che entrambe le partite fossero andate a referto per poi andare a comporre la classifica e i risultati e la classifica. Allora, andiamo a vedere qui perché è saltato, abbiate pazienza, www.campionatounder18.com Vado a darvi tutto il live della giornata. Eccolo qua, ci arriviamo, due secondi soli. Ecco che si compone la nostra schermata. Allora, da sabato 20 gennaio, Frosinone-Inter 0-6, domenica 21, Empoli-Parma 1-1, Cagliari-Sassuolo 1-3, Ellas-Verona-Lazio 1-0, Milan-Torino 0-0 di lunedì. Due partite, Bologna-Roma 1-2, Fiorentina-Sandoria 2-0. Questo martedì mattina si conclude con l'ultimo posticipo, Lecce 1-1, Genoa 2. E allora la classifica vede Roma 33, Inter 32, Empoli 30, Atalanta 28, Milan 27, Genoa 27, Lazio 24, Cagliari 24, Fiorentina 23, dietro Bologna 21, Parma 19, Lecce 16 in compagnia dell'Ellas-Verona, 15 la coppia Torino-Sassuolo, 8 la Sampdoria, 2 il Frosinone. E allora questo è il nostro resoconto del campionato Under 18, anche questo gestito in, tra virgolette, si chiama Spezzatino, e dunque abbiamo dovuto aspettare fino a questa mattina l'evolvese di tutti gli incontri del campionato Under 18. Andiamo a vedere invece ciò che è successo in tutti gli altri campionati. Allora scaliamo al sabato dove il pro De Paolo Caselli, bardatissimo con Andrea Giannatasio, sono andati a Petroio vicino a Vinci dove gioca da quest'anno le proprie partite interne di Primavera 1 l'Empoli. Bene, ci siamo presi una bella rivincita sugli azzurri. La Fiorentina ha finito per vincere 3 a 0, 3 a 0. Ci hanno pensato gli Evoli, minuto 61 l'autogol di Stassin, minuto 82 all'ottantaseiesimo il Trisse di Rubino. Sesta vittoria nelle ultime otto partite per la Primavera Viola, molto meglio in trasferta di quanto abbia fatto finora in casa. Servirà prima o poi portare anche 3 punti al Viola Parche. Intanto siamo saliti a quota 20, come dice e scrive Paolo Caselli che ha trattato la diretta testuale con un freddo boia. Sugli scudi Rubino, gol, assist e tante giocate per la giovane mezza punta Viola. Allora, Empoli con Seghetti, Gai, Bacci, Sodero, 46esimo, Navian, Stassin autore del 2 a 0 autogol. Tosto, Kazmarski, Fini, dal 79esimo, Madiancic, Vallarelli, Elbiache, dal 79esimo, Popov, Dragomer, dal 79esimo, Ansa, Vertua, Madiancic, Nocchi è entrato, Stojanov, Falcusan, poi è entrato anche Popov. Vediamo Ansa, Bacciardi, Forniciti, Bonassi e Paoliuc, allenatore, l'ex Juventino, Alessandro, Birindelli, Fiorentina che ha schierato, Tognetti, Baroncelli, Biagetti, dal 67esimo, Coaudio. Sene, Spaggiardi, 67esimo, Scuderi, Romani, Rubino, 88esimo, Mignani, Braschi, 67esimo, Gudelevicius, Fortini, Ievoli autore del gol dell'1 a 0, Harder dal 46esimo, Vitolo. In panca c'erano Leonardelli che poi giocava per l'Under 18, Denes, poi è entrato, troviamo Sadotti, Magginio, Fomà, Padiglia, allenatore simpatico Daniele Galloppa, l'arbitro è stato Sacchi di Macerata e dunque mi interrompo di nuovo grazie all'Empoli che ci ha permesso di fare le interviste in una stanza al chiuso, Paolo Caselli e Andrea Giannatasio ha le prese con mister Galloppa, linea la nostra regia. Di sesta vittoria nelle ultime otto partite, forse oggi quella più netta e convincente anche per le proporzioni dei risultati. Sì, è stata un'ottima partita, non era facile perché c'era tanto vento, era difficile giocare, appena saliva la palla cambiava traiettoria, poi loro ci hanno aspettato bassi, lo sapevamo, e quindi era difficile trovare lo spazio, però siamo stati bravissimi in preventiva concedendo veramente poco e poi c'era l'occasione per andare in vantaggio, l'abbiamo avuta e sono stracontento dell'interpretazione che danno ai ragazzi, soprattutto nella voglia che hanno avuto di portare a casa questi tre punti. Abbiamo visto anche un fraseggio in alcune circostanze, proprio un gioco da parte della Fiorentina che supplieva ancora una volta alla fisicità superiore dell'Empoli, però tecnicamente la Fiorentina ha dimostrato di essere superiore con questo fraseggio a palla. Beh, noi vogliamo avere la palla, ci piace, lavoriamo per cercare di fare le partite cercando, come dico sempre, di portare l'avversario all'errore, non di aspettare l'errore perché vogliamo essere protagonisti in questo, i ragazzi sono stati bravissimi. Poi non era facile perché, ripeto, sia al campo sia trovare comunque alternative, comunque abbiamo avuto i caprini fuori, comunque abbiamo perso Elia, comunque Vigiani è ancora fuori, ci stiamo cercando altre soluzioni e i ragazzi lo stanno facendo benissimo. Anche se la prima palla a gol è stata della Fiorentina, su quell'azione in contropiede c'è stato il tiro di Braschi deviato dal portiere, quella era subito una buona occasione per la Fiorentina e i presupposti positivi si vedono anche da queste situazioni. Poi vanno a trasformare? Sì, infatti speravo di trasformarla subito perché sapendo come pollo si sarebbero difesi sennò sarebbe stato difficile, questa partita più la portavi avanti sul pareggio più magari si sporcava e loro, era dove volevano arrivare loro secondo me quindi io speravo di avere un vantaggio, per quello su ogni riconquista palla l'input nostro era di andare avanti per trovare la possibilità di trovare spazi e ripartenza quando succedeva, per il resto è stata una partita dove abbiamo gestito nella partita e loro che ci videranno gli spazi. Quanto si avvicina questa versione di Fiorentina a quella che aveva in testa all'inizio stagione? Cioè l'idea di calcio, il modo di esprimersi, il collettivo che si vede a un'armonia diversa mi ricordo che dopo alcune partite, alcune sconfitte ci diceva è anche faticoso allenarsi, lavorare, ecco adesso quanto si avvicina all'ideale di Fiorentina che ha in testa? Ma si avvicina tanto, io sono convinto che noi siamo cresciuti, stiamo crescendo proprio come singoli dentro al collettivo ecco è quello che ci sta aiutando tanto perché l'ideale di quello che vorrevo vedere io l'ho visto anche in giro d'andata come prestazioni, poi i risultati non sono venuti però siamo la prima squadra per possesso, la prima per tiri in porta addirittura quindi già il giro d'andata, quindi la squadra vuol dire che l'identità ce l'ha e io ho sempre detto che so dove voglio portare questa squadra i ragazzi mi conoscono e secondo me l'hanno sempre fatto ora ci sta aiutando il fatto che il singolo sta crescendo dentro al collettivo Sembra banale, sette gol nelle ultime tre partite nelle prime dieci non trovavamo il gol però è troppo semplicissimo dire abbiamo trovato il gol, la squadra è cambiata però è così Il gol sposta tutto, sposta l'equilibrio, sposta a volte i giudizi sposta come ti svegli la mattina perché il gol è così perché per vincere bisogna fare gol e quindi quello è sposta tanto però noi dobbiamo continuare a battere io credo che la forza nostra sia mia che ma del mio staff che mi dà una grandissima mano e che non abbiamo mai perso di vista la direzione anche quando le cose poi non venivano è sempre stato un appiglio il fatto di avere un'identità, di giocare, di proporre, di cercare di fare la partita io l'ho detto prima della partita ragazzi abbiamo perso tante due partite ma sconfitti non vi siete mai sentiti proprio perché la prestazione c'è sempre stata oggi vi chiedo la prestazione prima del risultato e così è stata ma perché c'è un lavoro dietro ripeto dello staff e devo ringraziare tutti i ragazzi si può dire che l'ultima, anzi la prossima, pardon la gara con il Frosinone sia il modo migliore per mettere in punto esclamativo su discorsi di bassa classifica? quindi diventa la partita forse più importante? beh diventa una partita molto importante sono d'accordo molto difficile perché poi prepararla secondo me è ancora più difficile più facile preparare il Milan in casa la prima della parca che magari il Frosinone quindi non voglio assolutamente cali di tensione perché è una partita spartiacque io gli ho messo l'obiettivo di playoff mi li ho fatto guardare sotto ragazzi quindi dobbiamo continuare a guardare su domenica lo spartiacque è importante grazie grazie e allora grazie a Galloppa grazie a CF Fiorentina andiamo a vedere i risultati del diciottesimo turno primavera 1 Empoli Fiorentina 0-3 Inter Sampdoria 1-0 Atalanta Milan 1-0 Genoa Bologna 1-0 Frosinone Sassuolo BG Caccaro 2-0 Frosinone Juventus Lecce 1-0 Verona Lazio 2-2 Roma Torino finisce 1-3 esterno dei Granata Caglia di Monza 1-2 Intera di Sardegna la classifica Inter lassù 37 4 di vantaggio sulla Roma 33 33 anche per il Torino 31 Milan 30 la Lazio 29 il Sassuolo 29 l'Atalanta 27 il Cagliari 27 la Juve 26 il Verona 24 il Genoa 22 Lempoli ma abbiamo raccorciato Fiorentina che sale a 20 punti 20 la Sampdoria 17 il Bologna 17 il Lecce 17 il Monza 6 per il Frosinone con già un piede e mezzo e qualche cos'altro in serie Primavera 2 dunque molto meglio come detto la Fiorentina continua a giocare a vincere in traspetta dico ai giovani Viola che prima o poi toccherà cercare la vittoria al Viola Park allora detto dei risultati e la classifica del campionato Under 18 dopo il 2-0 della Fiorentina nel posticipo con la Sampdoria andiamo al campionato Under 17 la Fiorentina vince a Lecce 3-1 bene Lecce con Kadar Zanotel Leone al suo posto Liccardi Paglia Lunga rilevato da Dell'Anna Arsena Vitale Perrone Di Pasquale al suo posto entra Lerga Martano rilevato da Portaccio Leo Spinelli allenatore signor Mazzeo la Fiorentina si schiera e vince con Dolphi in porta Sturli Sardilli rilevato da Perrotti Bonanno Batignani Turnone Evangelista al suo posto entra Di Pier Domenico Ciacci Majorana al suo posto il giovanissimo Sanogo in chiusura Angiolini rilevato da Italiano Azzeni sostituito da Arca di Pana in panchina rimanevano il dodicesimo Magalotti e Ceccarini con Betti e Flachi con mister Capparella arbitrato la signora Lara Spata di Bari Turnone al minuto 17 Angiolini al 33 Spinelli Accorcia al 41esimo Majorana la chiude e poi esce alla mezz'ora della ripresa 3 a 1 Fiorentina questi risultati del turno Cosenza batte Lazio 2 a 1 Ascoli Catanzaro 3 a 1 Bari la Ternana 3 a 1 Lecce Fiorentina 1 a 3 Empoli Salernitana Manita Azzurra 5 a 2 Palermo Frosinone 1 a 4 la classifica Fiorentina in testa largissimamente 40 più 10 sulla Roma più 12 sull'Empoli allora 40 la Fiorentina 30 la Roma 28 l'Empoli 28 la Lazio 23 il Palermo 22 Frosinone 19 Bari 17 Salernitana 14 Catanzaro Scalino di 3 11 Lecce 9 il Cosenza 8 la Ternana 8 Lascoli hanno riposato i campionati under 16 under 15 ci rivediamo nel prossimo weekend nel campionato under 14 Olbia Carrarese 3 a 0 Empoli Città di Pontedera 5 a 0 Lucchese Fiorentina 1 a 1 Empoli 15 Pisa 15 Fiorentina 13 Olbia 9 Città di Pontedera 6 Lucchese 2 Carrarese 1 campionato under 13 vediamo quello che è successo Pisa Arezzo 2 a 2 Lucchese Città di Pontedera B 1 4 Empoli Lucchese B non è stato messo al referto sono partite rinviate con Carrarese Empoli B 1 a 1 Città di Pontedera Pisa squadra B 3 a 0 riposa sia nell'under 13 che nell'under 13 fair play che vedremo dopo la formazione viola nell'under 13 Empoli 28 Fiorentina meno 1 27 Empoli B 25 Carrarese Pisa ne hanno 17 a 12 Pisa B a 11 Larezzo 10 la Lucchese 9 Città di Pontedera 9 Lucchese B 6 Pontedera B andiamo a vedere il fair play under 13 Pisa Arezzo 2 a 2 Lucchese Città di Pontedera B 2 4 Empoli Empoli Lucchese B rinviata Carrarese Empoli squadra B 1 a 1 Città di Pontedera Pisa B 4 2 anche qui dicevamo come l'under 13 riposa la Fiorentina la classifica dice di Empoli 42 meno 14 punti del fair play Fiorentina 37 che ne sconta 10 Empoli B 26 solo meno 3 Pisa B Pisa A 24 meno 11 Pisa B 24 meno 12 Carrarese 23 meno 8 Città di Pontedera 17 meno 6 Larezzo 15 meno 3 Città di Pontedera B 13 meno 7 la Lucchese A 9 solo un punto da scontare la Lucchese B 9 con un punto solo da scontare allora questa è la nostra avventura di questo martedì 23 gennaio ringrazio ovviamente Paolo Caselli che con me ha contribuito a costruire tutti i dati classifiche tabellini formazioni e quant'altro ringrazio ACF Fiorentina per tutte le disponibilità ringrazio il Centro Giovani Calciatori a Viareggio adesso voi sapete cosa dovete fare qualche attimo di pausa passa un piccolo promo pubblicitario poi al di fuori della nostra presentazione di questa nostra emissione la sintesi del derby primavera 1 Empoli Fiorentina 0-3 era presente si è infreddolito insieme a Andreino Giannattaso il nostro Paolo Caselli è tutto rimanete con noi qualche secondo poi via le immagini di Empoli Fiorentina vi saluto vi ringrazio viva il calcio giovanile viva tutte le giovanili della Fiorentina forza a tutti i ragazzi delle giovanili toscane che noi ricordiamo sempre in questo appuntamento del martedì sera la linea torna alla nostra programmazione della nostra ammiraglia sportiva il canale 96 di Tele Firenze Viola Supersport da Stefano Ballerino una cordiale buonasera vi voglio bene Lina allo studio